Carissimi amici di Santina, a tutti un cordialissimo benvenuti qui nell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Questo ospedale è un ospedale che ha avuto molto forte il morbo del Covid-19. Come vedete anche gli ingressi sono presidiati e l'area ormai è Covid-free, ma vogliamo dare a voi l'idea di quello che qui c'è. Incontreremo tra poco il dottore Giovanni Lidella, uno degli eroi del nostro libro. È qui con me Silvia Bonicchio insieme con Annalisa che ringrazio di cuore perché lei di Bergamo è con noi per far vedere che questa situazione è una situazione completamente reale. Tra poco incontreremo Giovanni, andremo a visitare il luogo dove lui è stato ricoverato e poi in sala operatoria per vedere come oggi Giovanni è ora. Do la parola a Silvia che vi darà un piccolo saluto da parte sua e da tutta l'associazione. Buongiorno a tutti, sono felice di essere qui con Don Gigi, di accompagnarlo in questa esperienza e di aver contribuito ad aiutare l'associazione e tutti noi anche nell'acquisto dei ventilatori che abbiamo visto essere stati usati ed essere stati molto utili. Vi ringrazio a tutti, arrivederci. Vorrei dare un abbraccio a Silvia per abbracciare tutti coloro che hanno aiutato qui in questo tempo la nostra bella città di Bergamo e da parte nostra da Bergamo a tutti gli amici di Santino un cordiale saluto. A tutti voi un saluto cordiale, Gigi.